di Europa. Sembra siano stati abitanti del luogo a uccidere 18 sospetti talebani nella valle dello Swat. In Afghanistan i taleban minacciano violenze e i seggi per le prossime elezioni. I conflitti dimenticati in Africa uccidono ogni anno 3.000 persone. Riconoscere l'acqua come diritto di tutti, il messaggio dell'annuale settimana mondiale dell'acqua che si apre oggi. E infine lo dobbiamo apprezzare la spreca dell'anno sacerdotale quando il sacerdote esercita il suo ministero in realtà degradate e abbiamo ascoltato l'esperienza di padre Garau che si trova a Palermo. Siamo in chiusura e il nostro grazie va oggi a Gustavo Messina per la parte tecnica e a Maria Brigini per la regia. Da Claudia Di Lorenzi e da Giorgio Corti. L'augurio di una serie domenica pomeriggio. Per ascoltare di nuovo o leggere il testo di questo radiogiornale collegarsi al sito internet www.radiovaticana.org Termina qui l'edizione internazionale in lingua italiana. I minuti chiari della Radio Vaticana in lingua italiana alle 19.30 e in replica alle 21 e alle 23. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.